Dal 15 novembre sono in stato di preallerta in tutto il territorio del comune di Tolentino gli uomini del servizio di sgombero neve. Nessuna emergenza all'orizzonte ma solo la conseguenza dell'approvazione del piano neve per la stagione 2017-2018 che avrà validità fino al 31 marzo del nuovo anno. In caso di abbondanti nevicate grazie al piano saranno tempestivamente attivati uomini e mezzi al fine di consentire la transitabilità e sicurezza di tutte le strade sia con le auto ma anche a piedi. Previste oltre alle operazioni di pulizia delle strade dalla neve anche quelle di spargimento di sali disgelanti, graniglia, pietrisco o sabbia. Particolare attenzione sarà dedicata alle strutture pubbliche principali come l'ospedale, i poliambuli a Tori, la stazione ferroviaria, le scuole, le strutture sanitarie in genere, il municipio e gli uffici postali. Agli automobilisti viene consigliato fin d'ora comunque di limitare al massimo l'utilizzo dei mezzi in occasione di nevicate e poi di viaggiare montando pneumatici in corretto stato di efficienza adatti al periodo invernale. Il Consiglio vale soprattutto per coloro i quali risiedono nelle zone extraurbane. In caso di nevicate copiose i cittadini sono invitati a collaborare con l'amministrazione comunale provvedendo alla rimozione della neve negli spazi privati prospicenti, le proprie abitazioni ma anche a mantenere libero il proprio passo carraio pedonale a ogni passaggio dello spazzaneve a collaborare all'apertura dei varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e incroci.